ok analisi ammortizzata vi farò due esempi di analisi ammortizzata uno è relativo al contatore binario che vedete qui che è un esempio giocattolo e invece dopo parleremo di vettori dinamici che ci interessano per tutto quello che riguarda le strutture dati ok allora cos'è l'analisi ammortizzata è una tecnica di analisi della complessità che lavora nel caso pessimo ma non opera su una singola operazione ma su un insieme di operazioni cosa vuol dire se io vi chiedo di stimare il costo di un'operazione di sort ok e questa operazione di sort è un algoritmo tipo merge sort oppure insertion sort eccetera eccetera voi vi mettete lì e studiate i casi medio pessimo ottimo così via e ne ottenete un risultato per quanto riguarda il caso medio bisognerebbe fare un'analisi probabilistica però dipende molto dal tipo di algoritmo quindi per ora non abbiamo ancora visto in particolare vedremo qualcosa quando parleremo del del quick sort ok ma in tanti altri casi questo riguarda soprattutto le strutture dati le operazioni che fate sulla struttura dati vengono fatte una volta poi un'altra volta poi un'altra volta ancora e così via e può essere che alcune di queste operazioni siano più costose per come realizzata la struttura data altre meno costose sto parlando della stessa operazione cioè la stessa operazione a volte può essere fatta molto velocemente a volte meno ok poi a complicare le cose ci possono essere anche più operazioni quindi alcune delle operazioni possono avere un costo sempre basso altre possono avere un costo a volte alto a volte basso il nostro compito qui è prendere una struttura dati normalmente e studiarla dal punto di vista del caso pessimo che significa che consideriamo tutte le possibili sequenze di operazioni che ne so una insert una remove una insert una remove ma anche tutte insert e poi tutte remove qualunque sequenza abbiate che sia possibile fare su questa struttura dati e dopo di che cerchiamo di capire qual è il costo di queste n operazioni ok come vi dicevo iniziamo con un esempio giocattolo che il contattore binario e poi invece vediamo una cosa un po più seria allora come andiamo a fare i calcoli per valutare l'analisi ammortizzata ci sono tre modi aggregazione accantonamenti e potenziale che vedete qui però bisogna dire che quello che troverete probabilmente più semplice da capire perché dipende anche da come lo lo spiego è quello dell'aggregazione che si semplicemente non fa altro modo matematico per dire ok sommiamo assieme tutti i costi e poi dividiamo per n ok quindi potremmo dire che una tecnica derivata dalla matematica invece per quanto riguarda il metodo degli accantonamenti potremmo dire che una me è un metodo derivato dell'economia e da cui anche il nome di costi ammortizzati cioè l'idea è che quando noi su compriamo un calcolatore che costa x mila non diciamo il calcolatore comprato nell'anno quest'anno e costa x mila diciamo il costo del calcolatore si spalma per i suoi anni di vita diciamo mediamente 4 per i server che utilizziamo e quindi diciamo che questo x lo dividiamo su 4 anni l'idea è che questo significa che i costi ammortizzati possono essere maggiori o minori del costo effettivo e questo serve poi a fare il calcolo in modo tale da ottenere il costo su n operazioni infine c'è il metodo del potenziale che è quello che spiegherò un po' peggio diciamo deriva dalla fisica e cerca di calcolare lo stato di una struttura dati come una struttura dati che ha una certa diciamo energia di potenziale e noi valutiamo le differenze di potenziale fra questi stati quello che personalmente trovo meno naturale lo faremo solo accennato ok ok quindi come ho detto partiamo dal contatore binario e come ho detto un esempio giocattolo supponete di avere un contatore binario di k bit con k arbitrariamente grande ok memorizzato con un vettore di booleani allora il bit meno significativo lo mettiamo in a 0 il più significativo lo mettiamo in a k meno 1 ok e poi possiamo calcolarci il valore del contatore con l'aritmetica binaria e quindi direi che x è uguale alla sommatoria che per i che va da 0 a k meno 1 di ai il valore del bit per la potenza iesima della potenza iesima corrispottiva ok consideriamo un'unica operazione che è la increment che somma 1 a questo contatore semplice no allora il codice per scrivere questa increment considerando il vettore come un vettore di booleani non fa altro che dire ok vami a cercare il primo bit 0 ok e quel bit lo trasformi in 1 allora il primo bit 0 a partire dal meno meno significativo tutti quelli precedenti vengono trasformati in 0 cosa significa se voi avete 1 0 come bit mamma mia perché adesso c'è il ritardo se avete 1 0 come bit allora l'idea generale è che cercate il primo bit 0 e se volete fare un incremento lo mettete a 1 e quindi questo diventa 1 ok se avete tanti bit a 1 prima di questo quindi non so 1 1 1 e poi 1 0 quello che andate a fare è portare il bit 0 a 1 e poi trasformare tutti i bit precedenti in 0 ok ok quindi questo algoritmo non fa altro che questo finché incontra bit uguale a 1 allora li trasforma in 0 quando trova un bit uguale a 0 lo trasforma in 1 ok tutto qua niente di particolare qual è il costo di questo algoritmo di una singola istanza di questo algoritmo costa n utilizzato per questo caso particolare k perché poi avremo n operazioni quindi costa k meglio costa o grande di k ok perché l'idea generale è dire che alla peggio cambio tutti i bit dal primo all'ultimo quindi e o grande di k allora se andate a vedere questo è un esempio più completo delle varie sommatorie l'idea che qui ho fatto 16 operazioni di incremento ok e ho ottenuto il valore 0 0 1 0 0 0 0 0 che è l'ultimo della riga ok costo si calcola sulle n operazioni quindi calcoleremo t di n che però ovviamente dipenderà anche da k e le consideriamo una serie di operazioni in sequenza quindi l'idea avendo un'unica operazione consideriamo tutte le operazioni uno dopo l'altro come se fossero una sequenza di operazioni di incremento consideriamo il caso pessimo quindi cosa può andare storto e facciamo aggregazione sommiamo assieme tutte le complessità individuali allora cosa succede succede che la chiamata increment abbiamo detto richiede un tempo di k nel caso pessimo esiste un'unica operazione quindi l'unico modo per fare una sequenza di un'operazione ripetere quella ok il limite superiore è t di n uguale o grande di n per k per una sequenza di n incrementi fin qui mi guardate faccia stranite perché immagino vi rendiate conto che non c'è niente di particolarmente difficile o strano fin qui ok una volta che ho il costo ammortizzato che non è detto che venga da una semplice moltiplicazione quello che posso fare è poi tornare indietro e fare il costo di una singola operazione che mi dice essere grande o di k ora qui è banalissimo perché abbiamo moltiplicato n per k poi dividiamo per n ovviamente otteniamo o di k però in altri casi potrebbe essere più complesso perché potremmo aver fatto calcoli più complesse quando andiamo a dividere per n otteniamo il valore medio sulle n operazione o meglio il costo ammortizzato allora vi faccio vedere questo grafico l'ho realizzato scrivendo l'operazione increment in java e dopo lo devo specificare perché spiega un po' l'andamento di questa curva quello che vedete sotto è il numero di operazioni che vengono fatte su l'increment di operazioni increment quindi 2 la 20 che è circa un milione 2 la 30 che è circa un miliardo fino a 2 la 34 che è circa 16 miliardi ok e il numero di bit che ho considerato è esattamente il logaritmo del numero di operazioni quindi l'idea è che avete da 20 a 35 bit ok quindi l'idea generale è che se io vado a quello che sto misurando qui è t di n su n quindi il costo ammortizzato di una singola operazione ok a guardare la nostra funzione k avrei dovuto avere una cosa che cresce linearmente con k con il numero di bit che vengono considerate invece no è costante o meglio non è nemmeno costante ha questo strano andamento ma vi posso assicurare che da 2 alla 28 in poi resta costante ok dopo parliamo di un attimo dello strano andamento ma cosa ci dice questo ci dice sostanzialmente che la nostra stima è sbagliata o meglio è corretta perché limitata sicuramente superiormente da n o grande di k ok però non ci abbiamo azzeccato per niente perché pensavamo crescesse linearmente invece resta costante ok adesso dobbiamo andare a cercare di capire perché se invece vi domandate del perché questa curva va in giù ok inizialmente questo a che fare con i meccanismi di just in time compilation di java credo cioè non credo che abbia a meno che non abbia sbagliato alcune cose ma non credo l'idea generale è che un'operazione che viene ripetuta tante tante volte viene man mano ottimizzata fino a avere l'ottimizzazione massima possibile all'interno del compilatore e quindi sostanzialmente l'idea che ripetere quell'increment un milione di volte non aveva ancora fatto scattare questo meccanismo ma da 2 alla 26 che quindi 32 milioni di volte questo pare sufficiente a java a dire ma cavolo questa è un'operazione importante tanto vale ottimizzarla il meglio possibile ok vedete comunque che il rapporto si è di 1 a 3 1 a 4 ovviamente una bella ottimizzazione però ricordatevi che qualunque ottimizzazione cambierà i fattori moltiplicativi non cambierà la natura dell'algoritmo la natura dell'algoritmo è essere costante ora dobbiamo capire perché però nel grafico che vedete qui ho messo k uguale a 20 qua k uguale 22 qua k uguale 24 cioè potevo ho messo n qua sotto potevo mettere k ok cioè l'idea è che aumento il numero di bit a disposizione ok comunque questa è una buona domanda se k era costante l'altra cosa da dire è che per come ho scritto la increment non c'è l'overflow cioè non è che quando arrivo in fondo ricomincio da capo quindi per fare 2 alla 34 operazioni ho almeno bisogno di 34 bit questa è l'idea insomma ok sì ma se qui abbiamo la linea che è tdn fratto n noi abbiamo che tdn fratto n è odk è costante no allora nel ok quindi dobbiamo fare alcune considerazioni perché quella stima superiore era molto grossolana cerchiamo di fare di meglio possiamo osservare che il tempo necessario eseguire l'intera sequenza è proporzionale al numero di bit che vengono modificati grazie per non dire qualcos'altro quanti sono i bit che vengono modificati proviamo a guardarlo ho aggiunto una colonna in cui è sottolineato un po alcune cose in cui vi faccio vedere il numero di bit che vengono modificati ovviamente a ogni increment almeno uno viene modificato e la sequenza che vedete è 1 2 1 3 1 2 1 4 1 2 1 3 1 2 1 5 ok allora la domanda che vi faccio è riuscite a vedere una logica in quella sequenza perché se io riuscissi a vedere una logica in quella sequenza allora riuscirei a fare il calcolo in maniera precisa perché a me non interessa tutti questi bit 0 che vedete qua tanto questi non li modifico ok quello che mi interessa è sapere quelli rossi sul sul bordo quanti sono volta per volta ok se andate a sommare questi valori ottenete questi valori 1 3 4 7 8 10 11 15 eccetera eccetera ok vi può aiutare non lo so come come ogni due operazioni faccio l'operazione su un solo bit ogni due operazioni faccio l'operazione su un solo bit ok questo perché stiamo facendo una increment e quindi la increment lavora su i numeri pari e dispari quando un numero è pari facendo un numero pari allo zero in fondo per quanto riguarda il bit meno significativo che notate sono disposti in maniera inversa rispetto a come ve le aspettereste un array ma è per capirci insomma ok e quindi il vostro collega ha detto ogni due operazioni modifico un solo bit poi dica ogni due allai operazioni faccio i operazioni esatto allora invece di guardare io ve l'ho fatto vedere per righe e vi ho fatto delle sommatorie per righe ma guardate la sommatoria per colonne io ho un bit lo modifico sempre ok poi nella seconda colonna modifico un bit sì e un bit no nella terza colonna uno ogni 4 bit nella quarta colonna uno ogni 8 bit nella quinta colonna cioè 2 valore 4 2 la quarta bit uno ogni 2 la quarta bit e avanti così quindi se io vado a fare questo come espressione cioè come sommatoria allora quello che mi viene fuori è che per i che vada 0 a k meno 1 vado a sommare n su 2 la i cioè vado a modificare n su 2 la i bit in quella particolare colonna cioè nella colonna i uguale a 0 vado a modificare n su 2 la 0 bit intero inferiore perché se ci fate un po' di calcoli vedete che per esempio nella slide che abbiamo visto ho fatto solo 16 incrementi ma i bit erano 8 quindi avevo molto più spazio quindi da un certo punto in poi smettiamo di fare incrementi ok quindi n su 2 la i per i uguale a 0 significa n più n mezzi più n quarti più n ottavi eccetera eccetera quello viene espresso portando fuori innanzitutto facendo una disequazione togliendo il limite inferiore poi portando fuori la n che vedete qui e a quel punto ci viene questa sommatoria che può essere limitata superiormente dalla stessa sommatoria ma con il limite più infinito di 1 su un mezzo alla i e questo sappiamo essere uguale a 2 moltiplicato per n 2n ok serie geometrica infinita decrescente ok il costo ammortizzato quindi il costo totale scusate e quindi 2 per n il costo ammortizzato è il costo totale diviso il numero di operazioni 2 ovvero costante ora quel valore 2 deriva adesso capirete un po' meglio subito dopo però a noi non interessa il valore che salta fuori a noi in questo caso particolare ci interessa sapere che è costante ok e questo è quello che vogliamo ottenere ed è giusto perché è esattamente quello che abbiamo misurato sperimentalmente ok allora il metodo degli accantonamenti adesso faccio la stessa cosa ma cioè stesso problema ma col metodo degli accantonamenti vi spiego un po' che tipo di ragionamento bisognerebbe fare sopra questo ok otterremo ovviamente lo stesso risultato si assegna un costo ammortizzato potenzialmente distinto potenzialmente distinto a ognuna delle operazioni possibile il costo ammortizzato può essere diverso dal costo effettivo e ci saranno ovviamente delle operazioni che hanno un costo diverso dal costo effettivo se voi fate una operazione poco costosa e il suo costo ammortizzato è più alto vi caricate di un costo aggiuntivo detto credito ok quindi il costo ammortizzato e il costo effettivo più il credito prodotto i crediti accumulati sono usati per pagare dopo le operazioni più costose e quindi il costo ammortizzato diventerà il costo effettivo meno il credito consumato adesso vi faccio un esempio no prima dell'esempio devo spiegarvi qual è l'obiettivo che vogliamo raggiungere vogliamo dimostrare che la nostra stima dei costi ammortizzati è tale per cui la somma dei costi ammortizzati AI è un limite superiore ai costi effettivi CD quindi vogliamo dimostrare che abbiamo scelto un costo ammortizzato più alto del costo effettivo e quindi riusciamo a disegnare, a progettare una disequazione di questo tipo ovviamente è facile fare una disequazione di questo tipo, basta sparare altissimo noi vogliamo dimostrare che il costo così ottenuto è poco costoso che significa guardate il grafico e dite ma è costante ma perché è costante? ci iniziate a ragionare e ottenete una stima ragionevole allora alcuni punti da ricordare questa dimostrazione deve valere per tutte le possibili sequenze caso pessimo il credito dopo l'operazione tiesima espresso dalla seguente formula che non è altro che portare la sommatoria per i che va da 1 a n su c portarlo dall'altro lato quindi col valore meno e questa sommatoria deve essere maggiore o uguale di 0 altrimenti non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo che era questo allora a questo punto cosa facciamo? il costo effettivo dell'operazione increment sarà di dove d e il numero di bit che cambiano valore il costo ammortizzato dell'operazione increment che gli vado a dare è 2 perché 2? cioè da un lato c'è il ragionamento che vi sto per fare dall'altro anche il fatto che abbiamo già ottenuto il risultato al punto precedente allora tutte le volte che voi trasformate un bit da 0 a 1 in una successiva operazione di incremento dovrete ritrasformarlo a 0 quindi la logica è che come costo ammortizzato per questa operazione dico che 1 è il cambio di un bit da 0 a 1 e 1 è per il futuro cambio dello stesso bit da 1 a 0 allora cosa abbiamo dimostrato in questo modo? che cioè la dimostrazione sta in questa affermazione tutte le volte che io inizio con una sequenza di bit a 0 tutte le volte che trasformo un bit a 1 mi metto da parte il costo per ritrasformarlo a 0 in qualche momento del futuro quindi sostanzialmente la sommatoria dei costi effettivi che abbiamo detto essere da 1 a n per c di i è minore o uguale alla sommatoria per i che va da 1 a n di 2 che è uguale a 2 n la dimostrazione sta qui in questo punto qui a questo punto quando ho la sommatoria quello che ho scritto qui è sostanzialmente guarda che tutti i bit che avrai cambiato mi sono messo da parte il costo per cambiarle in futuro ed è questo rappresentato da questa disequazione ok? infine terzo metodo il metodo del potenziale si associa alla struttura dati di una funzione potenziale di le operazioni meno costose devono incrementare il potenziale le operazioni più costose devono decrementare il potenziale il costo ammortizzato è dato dal costo effettivo meno, scusate, più la variazione di potenziale quindi l'idea è che il costo ammortizzato a di i è dato dal costo effettivo i più la differenza di potenziale dalla struttura dati al momento i esimo meno la struttura dati al momento i meno 1 esimo ok? dove ddi è il potenziale associato alla i esima operazione il costo ammortizzato se fate una sequenza di operazioni diventa una cosa di questo genere è a come sommatoria di tutti i costi ammortizzati data dalla sommatoria della formula che abbiamo appena visto qua sopra ok? e però cosa succede qui quando lavoriamo con le differenze potenziali? che sostanzialmente questo verrà fuori a essere come d di z allora c di 1 più d di 0 meno di 1 più c di 2 più di di 1 meno di 2 più c di 3 più di 2 meno di 3 avanti così ok? ho sbagliato tutti sì ok rifacciamolo allora è dato da c di 1 più il potenziale scusate poi lo scrivo così il potenziale in d di 1 meno il potenziale in d di 0 più c di 2 più il potenziale in d di 2 meno il potenziale in d 1 più c di 3 lo faccio fino a 3 più il potenziale in d 3 meno il potenziale in d 2 qual è il punto il punto è che i potenziali qui si vanno a semplificare ovvero questo si semplifica con questo e poi d di 2 il potenziale in d di 2 si semplifica con meno il potenziale di 2 e io resto con la sommatoria dei potenziali che è dato da questo valore c scusate la sommatoria dei costi effettivi più la differenza di potenziale da partire dalla prima operazione fino all'ultima se la variazione di potenziale di n meno d di 0 è non negativa il costo ammortizzato è un limite superiore al costo reale adesso vi faccio un esempio con una solita cosa e vediamo come fare allora scegliamo come funzione di potenziale il numero di bit 1 presenti nel contatore un certo istante ok quindi t è il numero di bit 1 in questo caso incontrati a partire dal meno significativo allora cosa significa che il costo effettivo diventa 1 più t perché vado a cambiare un bit più tutti i bit 1 che incontro prima tutti i bit 1 che incontro la variazione di potenziale è 1 meno t il costo di ammortizzato è 1 più t più 1 meno t che guarda caso da 2 quindi cerco di rispiegare meglio se t è il numero di bit 1 incontrati a partire dal meno significativo prima di incontrare un bit 0 tutti quelli dovranno essere cambiati ok il costo effettivo sarà tutti quei bit da cambiare più 1 perché è quello che trasformo da 0 a 1 1 più t la variazione di potenziale ho aumentato di 1 il numero di bit 1 perché ho passato 1 da 0 a 1 e ho diminuito il numero di bit 1 di t unità per cui quell'1 meno t ok il costo ammortizzato è dato da la somma del costo effettivo più la differenza di potenziale 1 più t più 1 meno t che è uguale a 2 che è esattamente la stessa risultato che abbiamo ottenuto prima ok quindi a un certo istante il potenziale dopo n operazioni sarà maggiore o uguale di 0 e sarà il numero di bit 1 presenti nel contatore totale ok quindi questo è il meccanismo per farlo a questo punto siccome capisco che questo particolare esempio non sia estremamente interessante guardiamo i vettori dinamici cerchiamo di capire cosa sono e che effetto hanno sulla vostra vita di programmatori guarderemo operazioni di inserimento e di cancellazione e dopodiché utilizzeremo questi meccanismi per valutare i costi allora voi volete implementare le sequenze tramite un vettore è una cosa possibile noi abbiamo visto brevemente l'implementazione delle sequenze tramite liste quali sono il vantaggio delle sequenze implementate tramite liste che potete aggiungere tutto in fondo tutto quello che volete e questa continuerà a crescere senza problemi in più potete anche aggiungere a metà se conoscete la posizione dove volete aggiungere e questo non comporterà particolari problemi nell'amministrazione della memoria perché è una lista appuntatori o reference ok e invece vi salta l'idea di utilizzare un vettore perché è molto più comodo perché se voglio accedere al quinto elemento basta che faccio ad5 e ottengo il risultato allora cosa succede che se io aggiungo un elemento in fondo quindi il mio vettore è grande m e contiene in questo momento n elementi con m maggiore di n se io voglio aggiungere in fondo a questo vettore normalmente non ho grossi problemi perché se ne ho due elementi e ne contiene 16 io scrivo in a di 3 nella posizione numero 3 e ho il mio spazio bello pronto ok ci sono più problemi se voglio inserire a inserire è un casino perché devo spostare tutti gli elementi successivi avanti di 1 e questo è un'operazione costosa che costa odn però l'append funziona bene e costa od1 ok piccolo problema però non è noto a priori quanto questa sequenza crescerà ok quindi la capacità può rivelarsi insufficiente proprio per questo utilizziamo un vettore dinamico che è una struttura dati particolare che per esempio in java è implementata in due classi separate una che si chiama vector e una che si chiama array list vector è lì dalla 1.0 e la array list è lì dalla 1.2 di java quello che facciamo è allocchiamo un nuovo vettore più grande copiamo tutti gli elementi che riempivano il vettore precedente aggiungiamo il nuovo elemento poi disallochiamo o lasciamo che il garbage collector lo pulisca il vettore vecchio e abbiamo un vettore più grande dove mettere le nostre cose ok vi propongo due possibilità sono abbozzate ok nella prima possibilità che chiamo double storage quello che faccio è moltiplicare per due la lunghezza del buffer che ho in questo momento quindi se il mio vettore era 16 elementi e sono tutti pieni e voglio aggiungere un elemento lo passo a 32 ok l'altra possibilità si chiama increment storage e c'ho un fattore di incremento lì rappresentato da una costante increment quindi diciamo che il fattore incremento è 4 ho 16 elementi vado ad aggiungere crea un nuovo vettore di 20 elementi ci copio i 16 che erano già presenti e poi aggiungo un elemento nelle 4 posizioni che mi sono liberate diciamo ok domanda quale preferite allora qualcuno ha detto quello sotto ok chi vota increment alzate la mano non avete timore non succede niente nel senso una domanda si abbiamo memoria infinita no avete un calcolatore la domanda era abbiamo memoria infinita la risposta è no avete un calcolatore con una certa quantità di memoria quindi con questa nuova informazione chi vota increment chi vota double e tutti gli altri dicono sono qui apposta per scoprire qual è la situazione migliore ok allora il raddoppiamento è utilizzato nell'array list questo è effettivamente codice che sono riuscito a pescare abbastanza chiaro nel nel codice sorgente di delle librerie di java e l'incremento è utilizzabile in vector in realtà quando è stata realizzata la 1.0 faceva un incremento fisso interno e potevi poi specificare quanto voleva essere l'incremento adesso la vector fa la double ma poi se vuoi puoi anche specificare un incremento quindi non raddoppia ma aggiunge un valore ok a questo punto state guardare la documentazione di array list dice una cosa di questo genere mentre gli elementi vengono aggiunti all'array list la sua capacità cresce automaticamente i dettagli della politica di crescita sono fatti nostri l'unica cosa che dovete sapere è che aggiungere un elemento a costo ammortizzato costante e questa è l'informazione che vogliamo comprendere oggi ok allora supponiamo di raddoppiare il vettore il costo effettivo di un'operazione add è dato da 1 se non devo raddoppiare la seconda riga quella che vedete qui se devo raddoppiare significa che esiste un valore intero tale per cui i esattamente 2 la k più 1 allora cosa significa questo c di noi stiamo considerando un vettore dinamico inizialmente con 0 elementi e poi aggiungiamo 1 2 3 4 continuiamo a aggiungere un elemento perché add aggiunge un elemento ok e quindi vogliamo sapere quando è che si raddoppia all'inizio il vettore per semplicità ha una dimensione iniziale di 1 non è proprio una gran furbata ma ci serve per semplificare i calcoli iniziare che ne so con 16 probabilmente è una buona idea il costo di una scrittura di un elemento consideriamo essere costante ma questo è ovvio questo significa che però se mi copio 32 elementi mi costerà 32 ok quindi il costo che vedete qui è più o meno con la stessa logica che abbiamo visto prima quando inserisco un elemento in un vettore grande 1 allora lo scrivo e sono a posto ma appena scrivo il secondo elemento il vettore grande 1 non basta più devo raddoppiare il mio vettore ripeto non si inizia con 1 però è perché così la formula viene semplice quindi raddoppio il mio vettore pagherò 2 la 0 che è il costo di elementi che devo copiare più 1 che è il costo del nuovo elemento che vado a scrivere bravo furbo ho appena raddoppiato il vettore quando voglio scrivere il terzo già non mi basta più quindi lo raddoppio ancora e mi diventa 4 ok e a questo punto il costo per scrivere il terzo elemento mi richiede di copiare tutto quello che c'era prima ma finalmente quando scrivo il quarto elemento ho abbastanza spazio per scriverlo ma appena scrivo il quinto attacca ho sfregato di nuovo devo raddoppiare ma poi sono libero per il sesto settimo ottavo e poi inserisco il nono raddoppio sono libero per il decimo fino al sedicesimo e poi si va avanti così quindi questi sono i costi effettivi ora utilizzando il metodo di aggregazione io posso andare a sommarmeli ok mi viene fuori che la sommatoria dei costi effettivi sommatoria per i che va da 1 a n di c da i allora se andate a guardare la formula vedrete che 1 lo pagate sempre perché è il costo di scrittura del nuovo elemento quindi se inserite fate n operazioni add n operazioni ne andrete a pagare ok poi c'è quel costo 2 alla che dipende da quanti incrementi quanti raddoppiamenti andrete a fare e quindi vedete qui che il limite superiore di questa sommatoria è il logaritmo in base 2 di n estremo intero inferiore scusate perché perché l'idea è che se faccio un diciamo un milione di incrementi un milione è inferiore a 2 alla 20 allora dovrò fare l'incremento per 0 per 1 per 2 fino a 19 ma non farò l'incremento per 20 e quindi portarlo a 2 milioni perché non ne ho bisogno ok questo comunque questi sono dettagli perché tanto noi al solito usiamo le disequazioni e quindi passiamo dall'intero inferiore al logaritmo ok la sommatoria per j che va da 0 log n di 2 alla j non è altro che sono altro che potenze di 2 è dato da 2 al logaritmo di n più 1 meno 1 ma 2 al logaritmo di n più 1 sarebbe così logaritmo di n più 1 costa uguale a n per 2 2n e quindi il costo che la maggiorazione che mi viene fuori è che tutto ciò è minore o uguale di 3n ok quindi il costo globale che ho per n operazioni è 3n siccome quello che voglio andare a vedere è il costo ammortizzato di un'operazione add singola qui faccio la divisione e ottengo un costo costante ok quindi bene cioè raddoppiando anche se ogni tanto raddoppiamo la quantità di memoria utilizzata i costi si mantengono costante cosa succede invece se utilizzo un'operazione di tipo con incremento ok per semplicità inizio con una dimensione iniziale d per semplicità di calcolo poi non è detto che doveviate far così e un incremento grande d il costo di scrittura di un elemento è 1 cosa si va a fare allora supponiamo nell'esempio qui d uguale a 4 supponiamo che io debba scrivere il primo il secondo il terzo il quarto elemento ottimo ho spazio poi però devo scrivere anche il quinto il sesto il settimo l'ottavo e quindi devo raddoppiare il quinto scusate incrementare il quinto e quindi mi costerà i d operazioni precedenti cioè e le operazioni che vado a scrivere poi mi costerà 2d poi mi costerà 3d poi mi costerà 4d perché tutte le volte andrò a copiarmi tutti i valori precedenti ok questo è rappresentato da questa somma qui cioè ovvero il costo è 1 se siamo nel caso in cui non devo incrementare nel caso in cui devo incrementare all'iesima operazione pago i però questo avviene solo quando i mod d è uguale a 1 cioè quando sto aggiungendo quell'elemento in più che mi serve per esempio 5 modulo 4 uguale a 1 quindi se faccio la sommatoria non entro tanto nei calcoli qua ma questa è la sommatoria dei costi effettivi questo deriva dal fatto che almeno un elemento lo devo andare a scrivere tutte le volte questo deriva dal fatto che dovrò andare a sommare n su d volte intero inferiore un costo che è d per j cosa significa? Significa che se faccio n operazioni n uguale a 16 allora 16 quello che succede è che pagherò 4 8 12 e se se faccio n uguale a 17 operazioni e pagherò anche 16 ok? tutto questo è rappresentato da questa sommatoria se fate un po' di calcoli quello che vi salta fuori è questo o grande su di n mezzi ok? scusate o grande di n al quadro se fate i vostri calcoli per il costo ammortizzato di una singola operazione otterrete o di n significa che se fate n operazioni di incremento il costo in media per ogni operazione sarà o di n ok? quindi qua ne salta fuori che raddoppiare o moltiplicare per un fattore costante è la cosa giusta da fare incrementare a un costo eccezionale che non vi conviene pagare ok? tanto per darvi un'idea il fattore di espansione che è questo fattore di di moltiplicazione nel caso di GNU C++ e nel caso di Oracle Java è 2 quello che abbiamo appena visto in altri linguaggi come Microsoft C++ del 2003 questi sono quelli che sono riusciti a trovare immagino che ci siano cose più aggiornate ma è tanto per darvi un'idea vedete che altri scelgono fattori moltiplicativi diversi magari preoccupati dalla memoria infinita che mi chiedeva il vostro collega ok? se non siete ancora convinti pensate un attimo a queste domande quanto costa allocare un intero all'interno di un vettore dinamico di interi nel caso pessimo allora cerco di spiegare meglio il vostro collega qui era preoccupato della memoria infinita oppure no quindi diciamo che io ho 16 interi voglio memorizzare il diciassettesimo e devo memorizzare 32 locazioni di memoria celle che contengono un intero per poterlo conservare e cavolo per 17 elementi ne alloco 32 ok? però fra questo quindi n è il numero di elementi che ho in un certo istante m è la dimensione che ho per allocare questi elementi n su m si chiama fattore di carico e lo rivedremo in altri esempi tabelle esce in modo particolare ok? e riuscite a darmi una disequazione cioè un limite superiore per n su m? cioè qual è nel caso pessimo tenendo utilizzando questo meccanismo e avendo solo add la quantità massima di memoria che posso cioè il fattore di carico più basso e più alto che posso avere allora nel caso del fattore carico più alto è uguale a 1 significa che occupo tutta la mia memoria nel caso del fattore carico più basso è maggiore o uguale di un mezzo perché ho questo fattore moltiplicativo 2 quindi il che significa che il limite uso il doppio della memoria che è necessaria ma non più del doppio ok? se invece fate una lista quanto costa allocare un elemento di una lista di interi? avete un'idea in java per esempio quanto costa? se la dovete scrivere voi non so pensando alla linked list che trovate in java ma se dovete scriverla voi quanto vi costa? supponiamo che abbiate un intero e poi cosa vi servirà per fare una linked list minimo? puntatore ok? c'è una reference un puntatore questi occupano esattamente la stessa quantità di memoria ok? nel caso diciamo in gran parte dell'architettura di macchina avete che ne so una macchina 64 bit e puntatori 64 bit cioè interi a 64 bit e puntatori a 64 bit poi ci sono variazioni qui e là però ben che vi vada avete questo avete un problema di quanto costi allocare un object in java un object vuoto cioè object senza tutto nessun parametro occupa 16 byte se ci mettete dentro un boolean ne occupa sempre 16 ok? la locazione di memoria avviene per multipli di 8 no scusate ne occupa 24 se ci mettete dentro un boolean quindi un oggetto che definite voi con dentro un boolean in memoria occupa 24 byte ok? un oggetto contenente un intero due reference qui ho fatto lista bidirezionale ma non è che cambi molto richiede fra i 32 e 40 byte dipende se c'è un'ottimizzazione che si chiama compressed references se viene utilizzato oppure no quindi il vostro elemento che contiene un intero occupa 32 byte ok? non 4 ma 32 quindi a fare una linked list a meno che non abbiate ottimi motivi perché dovete fare inserimenti in qualunque punto in qualunque momento fare una linked list vi costerà 32 per n elementi inseriti ok? scusate 32 byte per n sono gli inserimenti inseriti nel caso dell'avvettore dinamico sarebbero 4 byte adesso sto usando 32 bit 4 byte per elemento però al limite ne sprechiamo il doppio quindi è un 8 n onde per cui conviene sempre utilizzare cose tipo array list o il vector della standard library per allocare dati in cui non sapete quanti sono ma arrivano uno alla volta cioè vengono continuamente aggiunti e raramente rimossi però concede nel caso in cui ah no scusate prima di passare a oltre conoscete la differenza fra queste due chiamate o meglio questo il primo crea un buffer che è uno string buffer in cui andate ad aggiungere una x il secondo crea una stringa in cui man mano andate ad aggiungere una x per un certo numero di dimensioni ok dopo non le ritorna ma vabbè è solo per fare il costo secondo voi qual è il meno costoso dai due string buffer perché per esattamente questo tipo di problematica che abbiamo visto ovvero nel caso della string string è immutabile quindi quando fate string più x create una nuova stringa con tutti i valori precedenti e a ogni volta copiate tu ogni volta copiate tutti i valori precedenti quindi questo è un costo che è n quadro perché in pratica fate 1 2 3 4 cioè tutte le volte andate a sommare questi costi e sappiamo che la sommatoria da 1 a n per i è uguale a qualcosa che è n quadro questo invece costa odn perché sotto la string buffer c'è un vettore dinamico quindi man mano che aumentate i valori cioè aggiungete i valori internamente raddoppierà lo spazio di memoria che vi è utilizzato questi sono i costi per eseguire un milione di quegli aumenti di cioè di sommatorie di una stringa con la string buffer ci vogliono 24 millisecondi con la stringa ce ne vogliono 400.000 quindi capite che la differenza è notevole ok e vedete che l'andamento è lineare l'ultima cosa che vi faccio su il sui vettori dinamici riguarda la cancellazione allora quanto costa rimuovere un elemento dal vettore se io voglio rimuovere un qualunque elemento e mantenere l'ordine con cui le cose sono state trovate questo mi costerà odn perché perché io ho un vettore diciamo che voglio rimuovere il secondo elemento devo prendere il terzo elemento e metterlo sul secondo il secondo e metterlo sul terzo il quarto e metterlo sul terzo avanti così ok ora una cosa del genere se viene fatta con un vettore è una pessima idea quindi a quel punto si torna all'idea delle linked list perché se potete cancellare da qualunque punto in qualunque momento allora è una pessima idea utilizzare l'array perché tutte le operazioni di remove costeranno odn quindi questo è odn ma se non ve ne frega niente nell'ordine in cui gli elementi sono memorizzati nel vettore riuscite a vedere un modo per cancellare un qualunque elemento senza spendere così tanto sostituirlo all'ultimo cioè prendo l'ultimo e sovrascrivo l'elemento che voglio cancellare è ovvio che ho perso l'ordine con cui gli elementi sono messi ma se non è un grosso problema facciamo possiamo utilizzare questo tipo di approccio a questo punto però se voi permettete al vettore di ridursi in quantità allora sì che lo spreco di memoria può essere notevole cioè magari ho allocato per un milione di elementi ma poi ne ho tolti 900.000 e mi ritrovo con un vettore di un milione grande 100.000 lo spazio che devo utilizzare ok allora quello che andiamo a fare è misurare il fattore di carico e quando il fattore di carico diventa troppo piccolo facciamo una contrazione che significa allocchiamo una nuova spazio di memoria più piccolo dell'originale copiamo tutti i dati attualmente presenti e buttiamo via non ci dobbiamo aggiungere nulla perché tanto stiamo facendo una rimozione e buttiamo via il vecchio vettore che occupava un sacco di spazio quale soglia per il fattore di carico secondo voi vi ricordo quando il vettore è tutto pieno il fattore di carico è 1 quando il vettore è tutto vuoto il fattore di carico è 0 quando il vettore è pieno a metà il fattore di carico è 1 mezzo cosa faccio? quando è che diminuisco? a 1 mezzo la proposta che viene qui e una cosa che non ho detto è come diminuisco potrei dimezzare giusto? ok? quindi quando siamo a metà cioè quando sto scendendo avevo non so un milione di elementi sono sceso 500.000 e il mio vettore era grande un milione passo a 500.000 mi pare una buona idea oppure no? dipende se decrementiamo e basta allora finché abbiamo un'unica operazione la add è ovvio che c'è un'unica sequenza possibile se vogliamo fare n operazioni possiamo solo fare n add ma se abbiamo incrementi e decrementi l'idea è considerare questa struttura dati come una struttura su cui possono fare che ne so 5 incrementi 4 decrementi 7 incrementi 2 decrementi qualunque sequenza possibile la dobbiamo considerare allora il meccanismo che ha proposto il vostro vediamo sono andato sì scusate sono andato uno avanti è un meccanismo che può provocare un sacco di costi allora nella sequenza che vedete qui sotto abbiamo inserimenti e rimozioni ok faccio 5 inserimenti e il mio vettore a questo punto ha dimensione 8 ok poi faccio una rimozione il fattore di carico diventa un mezzo 4 su 8 quindi devo fare una riduzione dello spazio e quindi il mio quindi diciamo qui la capacità vedete eh ah iniziavo subito con 8 vabbè ehm la mia capacità diventa 4 ok a quel punto inserisco la mia capacità diventa 8 a quel punto rimuovo la mia capacità diventa 4 inserisco rimuovo inserisco rimuovo tutte le volte mi copio tutti i valori quindi una cosa del genere non va bene ok allora a questo punto è che il problema è che ricordatevi i costi di ammortamento ricordatevi gli altri meccanismi che abbiamo visto non abbiamo un numero di operazioni eseguite che ci permettono di pagare il costo per altre espansioni altre contrazioni ok il meccanismo che viene utilizzato è portare cioè dimezzare quando alfa raggiunge il valore di un quarto a quel punto il fattore di carico diventa un mezzo e non ci sono ehm grossi problemi in questo modo dopo un'espansione dopo una contrazione il fattore di carico è sempre un mezzo qui devo utilizzare l'analisi tramite funzione di potenziale allora scriviamo una funzione potenziale che vale zero all'inizio e subito dopo un'espansione e contrazione e crescere fino a raggiungere il numero di elementi presenti nella tavola quando alfa aumenta fino a uno o diminuisce fino a un quarto cosa significa che dentro questa funzione di potenziale ci deve essere la capacità di pagare il costo di espansione o decremento che stiamo per fare la funzione di potenziale che viene utilizzata è questa 2 per dimensione meno capacità nel caso alfa sia maggiore o uguale di un mezzo oppure capacità diviso 2 meno dimensione nel caso alfa sia minore o uguale di un mezzo se guardate cosa succede con uguale a un mezzo vedete che le due formule danno la stessa risultato perché 2 per dimensione meno capacità se la dimensione è in mezzo della capacità viene fuori 2 per un mezzo capacità quindi capacità meno capacità uguale a 0 quindi con alfa uguale a un mezzo il valore di questa funzione di potenziale è 0 ok con capacità meno 2 meno dim ottenete lo stesso risultato prima di un'espansione la dimensione è uguale alla capacità quindi alfa uguale a 1 e la funzione di potenziale dobbiamo guardare il caso alfa maggiore o uguale di un mezzo questo ci dice che due volte la capacità meno la capacità è uguale alla capacità e è uguale anche alla dimensione e quindi vedete questo con alfa uguale a un quarto prima di una contrazione la capacità è uguale 4 volte per la dimensione e quindi se fate capacità diviso 2 4 volte la dimensione diviso 2 meno la dimensione ottenete la dimensione quindi l'idea è che appena prima di fare una contrazione fare una espansione abbiamo esattamente da parte il costo che dovremmo pagare per copiare tutti gli elementi ok allora la funzione di potenziale è data dalla dimensione e dalla capacità la dimensione essendo il numero di elementi attualmente presenti un esempio quello che vedete qui è un vettore dinamico in cui la linea nera rappresenta la dimensione la linea verde che spero che si veda anche nei monitor di là rappresenta la capacità e la linea rossa rappresenta il fattore scusate la funzione di potenziale allora vedete che inizialmente si considera il caso in cui la dimensione iniziale sia 1 e quindi siamo pronti per un'espansione e vedete che quando si raggiunge il valore 1 la capacità raddoppia poi quando si raggiunge il valore 2 la capacità raddoppia va a 4 quando si raggiunge il valore 4 vedete la linea verde sale a scalini cioè cresce quando si raggiunge una certa dimensione la funzione di potenziale è stata calcolata in modo che nel momento in cui raggiungo il momento di espandermi ho una funzione potenziale sufficientemente grande per pagare la copia di tutti gli elementi anche quando mi contraggo per esempio qui ho una funzione di potenziale sufficientemente grande per pagare tutte le copie che devo fare nel momento della dimensione perché vedete il numero di elementi è esattamente uguale al valore della funzione di potenziale mi dica dopo il 16 potenziale scendere semplicemente tra 0 e avere capito dopo il 16 no allora quello il problema è che quando il valore è 16 c'è un attimo prima del cioè il valore di potenziale dopo aver inserito il sedicesimo elemento è rappresentato da questo valore pari a 16 nel momento in cui sto per inserire il diciassettesimo elemento e prima di mezzo la dimensione va a 0 ok questa è un po' l'idea cioè il fattore di potenziale c'è quell'attimo del raddoppiamento che in cui non ho ancora inserito il nuovo valore rappresenta la funzione di potenziale un attimo prima un attimo dopo l'espansione e la contrazione questo questo perché vede che ho aggiunto un elemento qua e poi è sceso l'idea è che il fattore il fattore se lei va a guardare qui vede che la dimensione qui scusi la dimensione è scesa di 1 perché era salita un attimo e poi è scesa quindi anche il potenziale torna a scendere perché raggiunge esattamente il fattore di carico quando qui è uguale a 16 è di nuovo qui in basso ok non la convinco il fattore di carico è un mezzo siccome la capacità è 32 il fattore di carico è 16 qua è 32 scusi la capacità è 32 la dimensione è 16 il fattore di carico è un mezzo il fattore di carico determina il valore della funzione di potenziale quando alfa è uguale a un mezzo il fattore la funzione di potenziale deve essere uguale a zero non ho capito la domanda si esatto è il momento in cui questa funzione non continua cioè non continua con due parti cambia cambia movimento diciamo per così dire ok grazie della domanda ora qui bisogna fare otto casi già ne faccio due e sono fino a troppi però l'idea è questa se alfa è uguale a un mezzo scusate maggiore o uguale a un mezzo il costo ammortizzato di un inserimento senza espansione è dato da il costo effettivo più la differenza di potenziale ok il costo effettivo di un inserimento senza espansione è sempre uno il la differenza di potenziale è data dalla formula della funzione di potenziale nei due momenti allora questa parte qua che vedete qui dice al momento iesimo ho due per dimensione di i meno capacità di i poi però faccio un inserimento ok quindi ho fatto un inserimento e quindi ho due dimensioni i meno uno meno capacità i meno uno siccome non c'è stata espansione e non c'è stata contrazione la capacità di i è uguale alla capacità di i meno uno perché perché se non modifico la capacità la capacità resta costante quindi vedete qui questo elemento e questo elemento adesso sono scritti come capacità di i meno uno questa elemento qui quindi dim di i meno uno più uno rappresenta la dimensione dopo che ho aggiunto un elemento è uguale alla dimensione precedente più uno la dimensione precedente era i meno uno e quindi ho questa formula che vedete qui se fate un po' di calcoli vedete che due per dim di i meno uno qui meno due per dim di i meno uno si semplifica meno capacità di i meno uno più capacità di i meno uno si semplifica mi resta quel due per uno più uno tre cioè in altre parole fare la contrazione avendo questo meccanismo mi dice che il costo ammortizzato di questa operazione è pari a tre ok però questo è un caso solo devo guardare tutti i possibili casi per esempio se alfa è uguale a uno il costo ammortizzato ha anche un'espansione come vado a farlo devo calcolare la differenza di potenziale il costo ammortizzato è dato dal costo effettivo meno la differenza di potenziale il costo effettivo è sempre uno però questo è per scrivere l'elemento ma ho anche la copia di tutti gli elementi precedenti dim di i meno uno ok poi ho le formule che mi dicono come si calcola la differenza di potenziale ho due dim di i meno uno due per dim di i meno capacità di i che trovate di qua e poi la stessa formula del potenziale ma con dim di i meno uno siccome la dimensione è aumentata di uno ecco che anche qui mi vado a scrivere questo tipo di formula ok e siccome so che la capacità di i è due volte la dimensione di i meno uno me lo vado a scrivere qui quindi vedete con delle operazioni che derivano dal fatto che io so che quando ho fatto un'espansione c'è un rapporto fra la dimensione e la capacità ottengo tutta questa formula andate a vedere semplificate ottenete tre se lo fate con qualunque altro caso quindi dovete fare caso alfa uguale a un quarto contrazione alfa maggiore minore di un uguale a un mezzo senza espansione senza contrazione eccetera eccetera otterrete sempre tre quindi il costo ammortizzato che è dato diciamo essendo la funzione di potenziale sempre positiva è maggiore del costo effettivo è limitato superiormente da tre onde per cui il costo effettivo è limitato superiormente da tre ammortizzato il costo effettivo ammortizzato ok conclusioni allora quello che avete visto qui è abbastanza complicato soprattutto per l'ultima parte della contrazione però viene utilizzato in tante altre strutture dati per esempio quando vedremo le tabelle hash sotto sotto hanno un vettore e quindi utilizzeremo esattamente queste tecniche o daremo per scontato che queste tecniche vengono utilizzate a un certo punto vedremo una struttura dati che si chiama insiemi disgiunti con euristica sul rango e compressione dei cammini ammazzate cosa significa che avete fatto una struttura dati semplici e dopo avete aggiunto delle euristiche delle ottimizzazioni si può dimostrare che su questa struttura dati tutte le operazioni hanno costo od1 anche se a guardarle sembrano tutte odn ok poi vedremo una cosa accenneremo una cosa che si chiama IP di Fibonacci e questo ci permetterà di migliorare l'esecuzione di alcuni algoritmi che vedremo più avanti ok grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti